Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spieghi più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sorana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, tu che sei amore, sia santificato il tuo volere. Venga il tuo regno a tua volontà. Come il cielo, sia gloria nei nostri cuori in terra. Donaci tre panni della vita, negli figli tuo eterno immenso, tuo volere. insegnaci il tuo regno a tua volontà. Insegnaci il tuo perdono, per essere il perdono ai fratelli. Donaci tre panni della vita, negli figli tuo eterno immenso, tuo volere. insegnaci il tuo amore, insegnaci il tuo amore, per liberarci dal volere umano. Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia. Padre, tu che sei la vita vera. Padre, tu che sei la mia volontà. Dal libro di cielo, volume 23, 13 novembre 1927. Come il verbo stava nel centro della sua umanità e come operava. Come c'è gran differenza tra il regnare della volontà divina e tra la santità dei santi, ancor che ci fossero miracoli. Ciò che il fiat è per natura vuole rendere le creature in virtù del suo atto continuo. Stavo seguendo il mio giro nel volere divino e, giunta agli atti che esso fece nell'umanità di nostro Signore, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, il verbo divino nella mia umanità stava come centro di vita in essa. Eravamo inseparabili l'uno dall'altra, ma siccome la mia umanità aveva i suoi limiti ed il verbo era senza limiti, immenso ed infinito, non potetti restringere dentro di essa tutta la luce interminabile del verbo. Questa luce stralipava fuori, in modo che i suoi raggi, stralipando fuori dal centro della mia umanità, uscivano dalle mie mani, dai miei piedi, dalla bocca, dal cuore, dagli occhi, da tutte le parti della mia umanità, in modo che tutto il mio operato scorreva in questa luce, che più che raggi solari investiva tutto e rintracciava tutti gli atti delle creature per dare i suoi, affinché gli atti di loro investiti dalla sua luce prendessero la forma dei suoi. E fu, se insieme acquistassero il valore, la bellezza degli atti suoi. Ma quale non fu il dolore della mia umanità nel vedersi respinti dalle creature, nella stessa luce del verbo eterno, gli atti suoi, ed impedirgli la trasformazione che voleva fare nelle creature? Ogni suo atto era un dolore, ed ogni atto delle creature si convertiva per la mia umanità in amarezza ed offesa. Com'è duro voler fare del bene, farlo, e non trovare chi riceve questo bene. Questo dolore dura ancora, perché tutto ciò che fece la mia umanità nella luce dell'eterno verbo esiste, ed esisterà sempre, e sta sempre in atto di fare ciò che una volta ha fatto, e sta come in agguato aspettando che la creatura riceva la trasmissione degli atti suoi, affinché uno fosse l'atto, uno il valore, uno la volontà, uno l'amore di ambo le parti. E solo col regnare il mio Fiat può, l'operato che io feci nella redenzione, avere il suo totale compimento, perché con la luce di esso le creature gli toglieranno, si toglieranno la benda e faranno scorrere in loro tutto il bene che il Verbo Eterno venne a fare nella mia umanità per amore delle creature. Onde mentre ciò diceva, vedevo il mio dolce Gesù che da dentro il suo interno usciva tanta luce che investiva tutto e tutti. Onde eseguivo il mio giro nel Fiat divino ed accompagnando col mio Tiamo tutti i prodigi che esso aveva fatto nei santi patriarchi e profeti dell'Antico Testamento, come quelli dopo la sua venuta sulla Terra, per chiedere in virtù di tutti questi atti suoi il suo regno divino in mezzo alle creature, pensavo tra me. Se tanti prodigi questo santo volere ha fatto in tutti questi anni, non è questo dunque il suo regnare, almeno in questi santi così prodigiosi? Ma mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, non c'è bene che dalla mia volontà divina non sia uscito, ma passa gran differenza tra il regnare di essa nelle creature, tra lo sprigionare un atto da dentro di essa e comunicarlo alle creature, come Abramo sprigionò un atto di eroismo ed ebbi l'uomo eroico nel sacrificio, Mosè un atto di potenza e fu l'uomo prodigioso, Sansone un atto di fortezza e fu l'uomo forte, ai profeti rivelò ciò che riguardava il futuro Redentore furono uomini profeti e così di tutto il resto che si sono distinti come prodigiosi e di virtù non comune, secondo l'atto che sprigionava il mio volere divino, se prestavano la loro adesione e corrispondevano, e così ricevevano il bene dell'atto di esso. Questo non è regnare, figlia mia, ne forma il regno del mio volere. Per formarlo non ci vuole un atto solo, ma l'atto continuato che esso possiede. È questo che vuol dare alle creature per formare il suo regno, il suo atto continuato di potenza, di felicità, di luce, di santità, di bellezza inarrivabile. Ciò che il mio Fiat è per natura vuole rendere le creature in virtù del suo atto continuo e contiene tutti i beni possibili ed immaginabili. Diresti tu che un re regna solo perché ha fatto una legge, ha dato un bene al suo popolo? Certo che no. Il vero regnare è formare la vita dei popoli con tutte le leggi, dando il regime decoroso, conveniente, retto e giusto alla vita di essi, dando loro tutti i mezzi necessari affinché nulla gli manchi per il loro bene. Il re per regnare dovrebbe avere la sua vita in mezzo ai popoli e fare una, la sua volontà di i suoi beni con essi, in modo che il re doveva formare la vita del popolo ed essi la vita del re. Altrimenti non è vero che questo è il regnare. Questo è il regnare della mia volontà, rendersi inseparabile dai figli del suo regno, dar loro tutto ciò che possiede fino a traboccarne fuori per avere figli felici e santi della sua stessa felicità e santità. Ora, da qui si vede che adonta dei tanti prodigi e miracoli che i santi, i profeti e i patriarchi hanno fatto non hanno formato il mio regno in mezzo alle creature, ne hanno fatto conoscere il suo valore, né il gran bene che possiede la mia volontà, né ciò che può fare o vuol dare, e lo scopo del suo regno. Perché mancava il suo atto continuato, la sua vita permanente in loro, e perciò non conoscendolo a fondo, si sono occupati di altro che riguardava la mia gloria e di loro bene, e la mia volontà l'hanno messa da parte aspettando altro tempo più provizio, quando la paterna bontà si compiacesse di far conoscere prima e poi dare un così gran bene e un regno così santo che loro neppure sognavano. Perciò si attenta e segui il tuo volo nel Fiat Divino. Bene, ci accingiamo a meditare questo brano, abbastanza agevolmente che è suddivisibile in tre parti, la prima, la seconda e la terza, non la prima Gesù parla della unione della sua divinità nella umanità e poi del bene da lui fatto, ma purtroppo sovente respinto quando era ancora tra noi. Dopodiché c'è la narrazione dinanzi alla domanda di Luisa se le gesta dei grandi patriarchi e dei santi dell'Antico Testamento e dei santi generali non fossero già una prima manifestazione del regno della divina volontà o meglio proprio una manifestazione in senso stretto del suo regno e Gesù spiega e dà la risposta e poi nell'ultima parte approfondisce che cosa significa questo regnare tornando di nuovo a usare quell'espressione atto continuato che poi la riprenderemo e facendoci comprendere come il fine della nostra vita che poi la sua realizzazione vedremo insomma in parte dipende da noi ma deve anche certamente essere concepita come un grande dono di Dio ma appunto il regno del suo regno è il regno dell'atto continuato in noi una partecipazione reale della felicità e della santità divina ecco perché si chiama il nuovo Eden l'anticipazione del paradiso eccetera bene andiamo come sempre con ordine ecco Gesù assoluto spiega una cosa fondamentale questo ci aiuti anche a noi che perfino la sua stessa umanità unita epostaticamente alla persona del verbo quindi attraverso insomma una modalità che rende l'umanità di Gesù insussistente non autosussistente cioè non sussistente se non unita alla persona del verbo io anche quando per quanto possibile cercavo di introdurre un po' questo mistero anche a a studenti e allievi dicevo doveva pensare semplicemente una cosa ogni essere umano io te che ascolti io che parlo te che ascolti siamo degli individui quindi la mia umanità adesso ha il principio di sussistenza in sé una volta che io ci sono è chiaro che ci sono perché Dio mi ha creato rimango perché Dio mi conserva nell'essere questo lo dobbiamo sempre ricordare ce lo siamo detti tante volte commentando la divina volontà però è la mia umanità coincide con la mia persona col mio essere per sé uno questo significa persona quindi io sussisto perché perché sono io l'umanità santissima del verbo cioè Gesù proviamo a a scinderlo per un attimo soltanto ovviamente nell'ipotesi non nella realtà l'uomo Cristo e Gesù non ha un principio di sussistenza proprio cioè non esisterebbe nemmeno se non fosse unito ipostaticamente alla persona del verbo per cui per questo quando a Gesù gli dicevano chi sei tu San Pietro disse tu sei il Cristo figlio del Dio vivente il figlio di Dio il chi si riferisce alla persona no io sono il figlio di mio padre e di mia madre e il mio nome è ma lui dice io sono il figlio di Dio non dice sono il figlio di Maria si capisca bene quello che sto dicendo perché perché certamente che Gesù è anche figlio di Maria quanto alla natura umana assunta ma strettamente parlando è figlio di Dio perché la filiazione si predica della persona anzitutto è e quella umanità non esisterebbe se non fosse appartenente quindi è unita in maniera indissolubile alla persona del verbo questi sono misteri per cui questa piccola spiegazione se il suo Spirito Santo aiuta e l'intelletto si apre un pochino certamente aiuta un po' non fa evidentemente non rende il mistero non più un mistero perché rimane sempre un grande mistero un'incarnazione ora per quanto questa umanità non fosse quindi autosussistente non poteva come dire riempire e restringere dentro di essa tutta la luce del verbo a cui era unita postaticamente e questo ci fa capire anche l'immensità assolutamente infinita e appunto in nessun modo circoscrivibile di ciò che la divinità è di ciò che la divina volontà al tempo stesso è nonostante questo dice Gesù siccome comunque questa luce c'era dentro di me anche se la mia umanità non poteva contenerla del tutto quindi sprigionava in continuazione luce e atti meravigliosi e faceva cose stupende purtroppo e questo è sempre il grande purtroppo incontrava quasi sempre una resistenza delle creature una re frattarietà una non possibilità da parte delle creature di farsi trasformare impedirgli la trasformazione bellissimo questo questo termine trasformazione che si è in un certo senso sinonimo di conversione però mentre conversione rappresenta un pochino l'atto la trasformazione rappresenta l'effetto della conversione cioè trasformazione significa cambiare forma quindi essere la classica altra persona e questo è quello che la grazia di Dio fa con chi glielo consente fino in fondo e poi Gesù fa quella grande esclamazione che non è e ci dice anche che non è finita con la fine della sua vita terrena ma è un'esclamazione perennemente in atto come è duro fare del bene farlo e non trovare chi riceve questo bene magari può essere successo anche a noi qualche volta e voler fare un bene a qualcuno avere la capacità di aiutarlo di tirarlo fuori da un guaio e vedere che questo qualcuno non vuole aiuto non lo chiede e se glielo porgo non lo accetta anzi magari si pure indispone si pure altera si pure adira chi ha vissuto questa cosa lo sa che si dice ma figlio te vorrei tanto per aiutare ma perché fai così se una libera volontà respinge un aiuto non ci si può fare niente purtroppo e questo è il dramma di Dio è il dramma che Gesù ha vissuto sulla terra e è purtroppo il dramma che continua a vivere ora nella seconda parte sappiamo che nel giro della divina volontà questo si trova anche nel più pellegrinaggio della divina volontà a un certo punto arriva il giro negli atti della storia della salvezza che è un grande giro insomma dove si vedono tanti prodigi che la divina volontà ha operato a vantaggio nostro del suo popolo e dice ma insomma questi hanno fatto veramente prodigi no? e se tanti prodigi questo volere ha fatto tutti questi santi non è questo già il suo regnare almeno in questi santi così prodigiosi e Gesù dice di no anzi dice che passa gran differenza tra il regno di essa nelle creature e lo sprigionare un atto da dentro di essa e questa è la famosa io a volte mi sembra ecco mi sembra perché anche qui ci muoviamo nell'ambito del mistero e ci sono sicuramente sacerdotiche più bravi e che hanno approfondito meglio di alcune cose no? a me sembra che questa distinzione corrisponda un po' a quella che c'è in teologia tra la grazia santificante e la grazia attuale così il regno della divina volontà e invece la santità comune ordinare degli atti allora mi spiego troppo oggi per capire queste cose per meditarci un po' sopra bisogna ricorrere a un po' di teologia sperando di essere non pesante di renderla il più semplice possibile allora la grazia santificante insegna la Chiesa è una condizione è uno stato è la presenza stabile per dirle in termini semplici dello Spirito Santo in noi questo non vuol dire certamente che tutti gli atti che facciamo sono atti compiuti in nome dello Spirito Santo o meno che mai lo Spirito Santo li compie in noi però è una condizione c'è un bambino c'è un bambino battezzato c'ha la grazia santificante ed è in grazia santificante fino a quando non sarà capace di commettere un peccato mortale perché la grazia santificante sappiamo dal catechismo si perde solo col peccato mortale diminuisce come con il peccato veniale non aumenta con l'imperfezione credo che altre volte abbiamo meditato su queste cose invece la grazia attuale è quella che Gesù può fare a chiunque anche a un peccatore non sempre è facile di sistemare perché la grazia attuale è un'ispirazione per esempio che Dio manda una persona che sta tanto lontanata a Dio sente nel cuore per capire cosa è la grazia attuale è ora che te vai a confessare ecco se nel cuore dice sì mi andrò a confessare ha accolto una grazia attuale quella è una grazia che è cominciata che è finita nel senso aveva come fine quell'aiuto divino di portarlo a confessare dopo che si sarà confessata avrà la grazia santificante e potrà riprendere il cammino non so se sono esempi semplici però ecco così dice Abramo ha portato Isacco sul monte Morie un atto eroico insomma abbiamo la divina volontà certamente attraverso Abramo ha realizzato ha visto l'atto dell'uomo eroico nel sacrificio la potenza di Mosè che vogliamo parlare quando ha aperto il Mar Rosso quando ha aperto il Giordano quando ha fatto sgorgare l'acqua dalla roccia quando ha fatto i prodigi in Egitto o gli atti di fortezza di Sansone compreso l'ultimo insomma il famoso Moia Sansone con tutti i filistei quando invece rovinare la reggia addosso a tutti i filistei o le grandezze prodigili dei profeti sono tutti quanti atti distinti belli divini importantissimi ma non è come quando la divina volontà regna in una persona questo perché come gli atti di una persona fino a quando conserva la grazia di Dio ci insegna la Chiesa specialmente gli atti buoni gli atti buoni compiuti in grazia di Dio per quanto siano imperfetti perché ogni nostro atto umano in particolare avente sfondo e valenza morale è sempre a meno che non ci sia un mezzo miracolo ordinariamente imperfetto tante volte io celebro la missa cerco di starci con tutta la testa possibile però magari faccio qualche distrazione involontaria o magari Dio non voglia ma per qualche istante mi prende pure un giorno che uno si sente debole una distrazione volontaria adesso quella missa ha valore davanti a Dio rimane un atto buono oppure no sì però purtroppo l'ho compiuto in maniera imperfetta se la celebrasse il nostro signore quella missa sarebbe perfettissima non ci sarebbe nulla che ecco però nonostante le nostre imperfezioni un atto compiuto in grazia rimane un atto buono che riceverà dal signore una ricompensa in paradiso le imperfezioni con cui sono state compiute se non le eliminiamo sulla terra poi saranno purificate in purgatorio ma questo è un discorso diciamo così che dipende dalla nostra umanità no ecco però ecco la stessa cosa vale per la divina volontà quando dice Gesù regna la divina volontà che cosa succede lo si manifesta primo in degli stati prolungati oserei dire perpetui che l'anima percepisce ce lo siamo detti tante volte quindi la percezione di essere come dire come ammantata coperta nascosta dalla potenza divina la percezione questa è una delle più facili diciamo così da percepire di felicità di luce la luce insomma si manifesta soltanto cioè parte nelle risplende la vostra luce davanti agli uomini perché vedono le vostre opere buone dice Gesù quindi in un operare sempre soprannaturale divino la luce si manifesta però anche nella facilità nella relativa facilità di discernere di comprendere la profondità delle cose è bellezza inarrivabile perché questo è il fiat per natura ora sappiamo che questo fiat divino quando Gesù lo considera in se stesso lo chiama l'atto unico del fiat supremo perché in Dio non esiste il primo e il dopo non esiste lo spazio e il tempo non esiste nulla di tutto questo per cui in Dio il fiat supremo è un atto unico anche qui stiamo dinanzi ad un concetto che è trascendente ma è trascendente anche il nome stesso l'idea stessa di Dio quello che dice a Mosè io sono colui che sono che è un po' una cosa che assomiglia a quello che significa l'atto unico del fiat supremo è una cosa che noi non potremo mai comprendere con con perfezione sicuramente in questa terra non sono neanche in paradiso non so come funzionano bene le cose in paradiso quindi riusciremo a non lo so perché è un concetto trascendente noi non siamo fatti così noi siamo temporali e spaziali per costituzione intrinseca quindi non possiamo capire cosa significa un eterno presente io sono colui che sono senza un primo o un poi magari anche questa percezione a livello emotivo dice ma e questo sarebbe l'eterna felicità l'eterna cosa di Dio eh sì noi lo possiamo capire però solo che quest'atto unico come Gesù spiega tante volte produce secondo la nostra percezione ma non miliardi non ci sono numeri per poter esprimere quanti sono gli atti della divina volontà d'accordo perché cioè non abbiamo neanche la percezione della grandezza dell'universo non sappiamo cosa si è inventata cioè già vedere quello che abbiamo a disposizione cioè se anche uno non facesse nient'altro in effetti Luisa non facesse nient'altro dalla mattina alla sera se uno avessi questa capacità di stare concentrato ininterrottamente a parte il fatto che cioè per una persona che deve comunque fare una vita umana non è possibile insomma ma se uno supponiamo essere la capacità di stare 24 ore su 24 a girare in tutti gli atti della divina volontà ma una vita intera non gli basterebbe per esaurirli noi non ci pensiamo anche qui è chiaro che in 5 minuti di meditazione non è che si possono dire ma si può andare io posso per esempio ricevere il Tiamo di Dio per esempio dal mare che è già tanta però dal dire semplicemente quando sto al mare vedo questa creatura quindi senza prestarci troppa attenzione comunque percepisco quella bellezza e quel beneficio che è che lo riconosco come ovviamente della divina volontà non ringrazio la divina volontà lo faccio mio e ci metto il mio diamo per ricambiarlo per me e per tutti sì ma anche qui la stessa creatura mare quanti quanti miliardi di goccioline ci sono quanti specie di veci sono in essi quanti tipi di mare ci sono anche ci sono gli oceani quante cioè pensiamo a chi è amante del mare che ha frequentato le spiagge cioè non c'è non c'è un posto uguale all'altro no se uno va adesso è il tempo delle vacanze se uno va in Puglia non è come la Sicilia se uno va in Calabria non è come la Sardegna se uno va in Campania non è come a Forte dei Marmi o in Toscana o in Riviera Adriatica insomma no quindi è sempre il mare d'accordo però con tutti quanti quei tocchi di di varietà infinita che che Dio ha ha disseminato e quindi con tutta quanta la sua vastissima complessità quindi se uno volesse soltanto spendere tutta quanta la vita per trovare le opere della divina volontà solo nel mare io penso che non lo so se gli basterebbe una vita e stiamo parlando di una piccola creatura importantissima praticamente per i nostri come dire equilibri terreni ma è una piccola creatura di un pianeta che è pianeta Terra che in quel poco che conosciamo dell'universo già della nostra galassia è un è una puntina di spillo figuriamoci dell'universo forse sarà un atomo in confronto a tutto quanto l'universo tutto il pianeta e dentro questo atomo ci sarebbe poi il mare quindi immaginiamo cioè dico tutte e tante queste cose perché questo è ecco e rendersi separabile dei figli del sogno quando uno vive in questo mondo e per vivere in questo mondo ce lo siamo detti tante voci che bello come si fa che bello come si fa risentiamo tutto quanto le meditazioni originarie come dire le cose sono sempre le stesse se cercare assoluto di farla la divina volontà di discernirla sempre meglio di agire con purezza di intenzione di staccarci da noi stessi dalle cose dalle creature questo già lo sapevano più o meno gli asceti d'accordo più o meno e poi gli atti i giri gli atti preventivi gli atti di fusione andare a cercare le opere della divina volontà il prenderne più che possiamo più possibile quando mangiamo quando beviamo quando camminiamo quando dormiamo e andare avanti in questo modo tenere da noi ogni cosa che possa agitarci turbarci alterarci insomma uscire diciamo così da quella percezione che che Dio è che Dio c'è che Dio è potente che noi non dobbiamo preoccuparci di nulla eccetera eccetera sono tutta questa insieme di cose che con pazienza con costanza e perseveranza lo mette in campo attendendo che la divina volontà regni io per esempio non sono in grado comunque una persona per esempio quando sta in grazia di Dio lo percepisce da alcuni effetti e mai con certezza perché c'è il Consiglio di Trento che dice che nessuno può sapere con certezza di essere in grazia mutatis mutandis potrebbe mai sapere qualcuno con certezza che regna la divina volontà in lui quale percezione sensibile se ci sarà una percezione sensibile se ne avrà quale quanta e questi sono interrogativi insomma abbastanza abbastanza grandi io suggerisco sempre ecco di un ottimo criterio di interpretazione noi stiamo sempre ai fatti ai fatti e alle poche cose oggettive e sicure che conosciamo di quelle occupiamoci e del resto se ne occupa nostro Signore camminando con costanza e perseveranza e sapendo che se questo faremo ce ne accorgiamo o non ce ne accorgiamo cosa succederà cosa non succederà ma presto o tardi sto benedettissimo regno della divina volontà in qualche modo in noi ci dovrà venire ecco e noi facciamo quello che possiamo per questo lo invochiamo continuamente certamente invocarlo il regno della divina volontà ma lo facciamo Gesù sono duemila anni che ce lo fa fare per forza perché quando diciamo il Padre nostro noi lo invochiamo il regno della divina volontà questo lo fanno tutti anche chi non ne è consapevole Gesù lo spiega negli scritti ce l'ha fatto apposta a metterci quella invocazione quindi andiamo sempre serenamente avanti ecco non facendoci mai le domande a cui non è possibile avere risposta stando ai fatti che già conosciamo e cercando di stando ad essi applicarci come e quanto possiamo perché questo regno venga nel nostro cuore grazie a tutti bene come sempre ti ringraziamo Santa Vergine Maria di averci accompagnato come guidato in questa odierna meditazione come sempre ti chiediamo di aiutarci a trasformarla poi in vita in preghiera a ritenere nel cuore ciò che il Signore può averci detto attraverso queste bellissime considerazioni fatte fatte da Gesù e aiutarci soprattutto ad essere sempre perseveranti costanti mai scolaggiarsi mai indietreggiare mai perdere la percezione che stiamo camminando ecco siamo in ricerca siamo in attesa di ciò che tu hai vissuto e che il Signore ha promesso e ci sta facendo invocare per cui serenamente cerchiamo di fare quello che possiamo e attendiamo con te che lo anelli più di tutti noi questo benedetto regno del divino volere in noi nella Chiesa e nel mondo nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria